Sì, guarda, non parlo, non parlo, infatti io, perché... Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo cominciare così, perché siamo persone... Quindi, comincia la nostra moderatrice. Buonasera a tutti. Io mi presento, sono... No, 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 mi dette appunto... No, io credo di... No, io credo di... No, potete... Velo, veloci, se... Posso anche spostare qualcosa, se vi ha fastidio... No, va bene. Sì, io devo la presenza. Ok. Facciamo un po' di... Mi dici al Signore. Quale? Dile a lui che la consiglio, vedete bene? Vedete bene lo schermo? Sì, vediamo qualcosa... Sì, vedo, vedo. Bene, cominciamo. Allora cominciamo, dai, adesso che ci siamo tutti, cominciamo. Buonasera, buonasera a tutti. Adesso io mi presento, sono Claudia Malaguti, presidente dell'Associazione Arte e Cultura alla Corte di Pensina, e la nostra associazione ha promosso questo evento in collaborazione con la libreria Spili Brai, che stasera gentilmente ci ospita. Per questo vogliamo intanto ringraziare con lo staff e la titolare Giulia Neri, che ha accolto con entusiasmo questa iniziativa letteraria. Il tema che abbiamo l'occasione di trattare qui oggi è il paesaggio della collina bolognese, la sua storia e lo stretto legame che questo territorio dal penino tospo emiliano ha avuto e tuttora continua ad avere con il pittore di fama mondiale Giorgio Morandi. Siamo qui appunto con l'autrice, Annalita De Lucca, storica dell'arte moderna e contemporanea, bolognese anche lei, e da sempre appassionata della pittura morandiana, oltre che alla storia di questi territori. Le porremo adesso alcune domande per parlare del suo libro, che tratta proprio in specifico della pittura di paesaggio che Giorgio Morandi realizzò a Grezzana, sulle nostre colline bolognesi, ma che racconta anche parecchie notizie e aneddoti curiosi su questo territorio e sulla sua storia. Infatti Annalita, Annalita De Lucca, ormai da molti anni si occupa di ricerca storico-artistica, scrivendo testi, cataloghi, articoli per riviste specializzate, tiene conferenze sull'arte moderna e contemporanea, partecipate a importanti comitati scientifici come per esempio la Biennale Internazionale di Firenze. Si occupa inoltre della promozione di artisti di talento, in particolare lo fa proprio attraverso l'Associazione Arte e Cultura alla Porta di Pessina come curatrice mostre ed eventi. Il saggio che presentiamo oggi, come sapete, è costituito dalla Collina dell'Anima. Giorgio Morandi è la sua Grezzana e fa parte della Collana Scarlatta, pubblicata da Cordero Editore, che è un editore di Genova. Il libro è uscito già da giugno scorso, è stato presentato anche al comune di Grizana, con di Grizana Morandi, dal sindaco Graziella Leoni e attualmente lo si può trovare nelle librerie italiane, anche qui alla libreria Scolibrai e anche via internet o su Amazon eventualmente. Il filo conduttore della trattazione all'interno di questo libro è proprio la raffigurazione del paesaggio. È un paesaggio però non inteso come un luogo da guardare o da considerare semplicemente come una sorta di cartolina come poteva essere rappresentato ad esempio nei quadri tipici del Settecento e dell'Ottocento, ma come rappresentazione della veduta paesistica secondo il significato che le conferiva Morandi, cioè esaminandone anche proprio il valore prettamente intimistico. Infatti il paesaggio pittorico per Morandi è in realtà un simbolo per parlare dell'intimo umano, del senso di solitudine interiore, è un pensiero sul senso della vita, sul significato dell'essere, anche un domandarsi che cosa vi sia oltre se materiale, cosa sia l'essenza interiore. Siccome ecco la nostra relatrice ha il suo secondo libro che parla in modo specifico del tema del paesaggio di Giorgio Morandi, andiamo a domandare subito come mai un altro studio improntato proprio di nuovo sulla pittura di paesaggio di Morandi quando sono stati scritti fiumi di parole, fiumi di testi sulle nature morte. Sì, infatti è vero, le nature morte e come del resto anche le bottiglie sono sempre state i soggetti più conosciuti dal pubblico, dal grande pubblico insomma riguardo a questo artista, mentre i paesaggi molto meno. Infatti se si domanda a una qualsiasi persona chi è Morandi, a prescindere dal fatto che molti lo confondono con Gianni Morandi, di cantante, ma quando si parla proprio di Giorgio Morandi ti rispondono spesso e volentieri chi? Quello delle bottiglie, proprio perché rimane visualizzata questa immagine dell'artista delle bottiglie. In realtà, diciamo già dal lontano, oramai lontanissimo 1995, io realizzai questo libro che parlava proprio della pittura paesistica di Morandi, che però era più incentrata, aveva una connotazione più generale, perché parlava non solo dei paesaggi di Griziana come in questo caso, ma proprio di tutta la pittura paesistica di questo artista, che diciamo comprendeva anche tutta quella serie di opere, di paesaggio che riguardavano la città di Bologna come i famosi portieri di Via Condazza, oppure ancora, non so, il ponte del fiume sul fiume Savena, che ha avuto anche una connotazione di particolare fama e importanza anche grazie allo studioso Lamberto Vitale, che fu un grande amico di Morandi e che studiò proprio in modo specifico, ha scritto dei libri importanti, l'incisione, quindi l'opera incisoria di questo artista, che è stato un artista di fama mondiale, proprio anche proprio sul tipo, sull'arte incisoria in particolare. E questa volta invece si parla proprio solo dei paesaggi di Griziana e provo un pochino a spiegarne anche il motivo. Diciamo che il paesaggio morandiano, bisogna dire che proprio come pittura, la pittura di paesaggio morandiano è un po' particolare, anche da spiegare, ed è più difficoltosa da comprendere rispetto appunto alle famose nature morte, perché mentre le nature morte, quando si osservano, e qui parlo proprio del pubblico, del grande pubblico, non solo degli addetti ai lavori, insomma diciamo così, quando tu li osservi questi soggetti di natura morta, come le bottiglie, insomma con questi fiori che lui realizzava, che poi vi farò vedere e che molti conosceranno sicuramente di voi, ti prendono nel senso che ti portano automaticamente a chiederti per quale motivo questo uomo, prima di tutto che questo artista, si cimentasse così assiduamente in maniera, si può dire, seriale, perché morandi ha rappresentato gli stessi soggetti per tutta l'arte della sua vita. Quindi ti domandi, sei portato automaticamente a domandarti perché lui si cimentasse sempre a rappresentare questo tipo di soggetti, che sono la natura morta, i fiori, sono sempre quelle cose, le bottiglie e poi dopo ne parleremo una parte dei paesaggi. Ma sulla natura morta intanto che ti la osservi ti fai delle domande e intanto che ti fai delle domande sei spinto ad osservare, a continuare a guardarla. E questo avviene anche per i suoi fiori, i suoi vasettini di fiori, le sue bottiglie. Diciamo che morandi rappresentava quindi questi soggetti che erano sempre soggetti molto semplici, anche poveri, oggetti comuni, polverosi, questi fiorellini, diciamo anche fiori di campo, piccole rose appassite, in questi vasettini che si vedeva benissimo di nessuna importanza e diciamo appunto quindi rappresentano un po' quella che è la sua interiorità dal punto di vista, diciamo così, di rappresentare ciò che manca, ciò che è diciamo qualcosa di più importante che viene a mancare nella sua connotazione personale e che adesso cercherò di spiegare meglio. Questo è Scamotage che, dico io, tra virgolette Scamotage moranghiano e assume un'altra valenza però per quanto riguarda il discorso dei paesaggi. I paesaggi in realtà sono di due tipi nell'opera moranghiana. Il primo tipo è quello che abbiamo citato prima e cioè appunto e soprattutto la rappresentazione del cortile di Via Fondazza nel centro di Bologna dove lui abitò, soggiornò per tutta la vita praticamente per tantissimi anni e al perlomeno fino a che non li vennero costruite intorno queste case alte che adesso noi vediamo che vanno a coprire tutta la visuale dalla Via del Piombo fino alla Piazza Carducci e quindi li coprivano la visualizzazione di un panorama un pochettino più aperto insomma. E intanto adesso vi voglio far vedere questa fotografia se riesco ad arrivarci che rappresenta proprio il cortile di Via Fondazza e vediamo come posso fare per ritornare alla schermata che mi dicevi tu, perché c'è anche un bisogno di aiuto. E adesso ci torniamo, ci arriviamo. E sono, ecco, allora qui vi faccio vedere innanzitutto la rappresenta numero due che è la rappresentazione dei fiori di cui vi ho parlato prima. Vedete proprio che rispondono a questo canale che abbiamo detto prima, fiori semplici e quasi appassivi, insomma, con questa connotazione anche nei colori colori pastello che sono molto delicati, insomma, che si portano un po' proprio in un'atmosfera diciamo che esce da un'immagine prettamente materiale. E quindi in quanto di tutti i domandi perché rappresenta questi fiori così semplici, sei portato ad osservare, cercare di capire che cosa c'è dietro a questo tipo di rappresentazione. Nel paesaggio, adesso vi faccio un esempio questo portile di Via Fondazza, che era tre, mi pare, sì, esatto, ecco, vedete qui è un po' sfocata. Questa è un'opera degli anni 50, del 1958, quando già ormai gli si copriva la visuale della strada, della via, e che lui però rappresentò, diciamo, sempre anche anche questo assiduamente per tantissimi anni, perlomeno appunto prima alla fine degli anni 50, come dicevo prima, quando comincia a frequentare, non comincia a frequentare, lui comincia a frequentare il territorio di Grizana, di cui si parla il rico, sin da gioventù, sin da giovanissimo. Poi comincia, dagli anni 50 in poi, a trattare quasi prettamente questo territorio grizzanese. E diciamo che lui parte appunto dal 1913 per la collina di Grizana, insieme alla sorella Anna, lui aveva tre sorelle, Anna praticamente in quel periodo, era giovanissima, quasi bambina, aveva subito una brutta caduta e la sua insegnante, la sua maestra, le consiglia di recarsi in questo paese della collina bolognese, proprio per prendere aria buona, per rigenerarsi, perché poi si pensava che andando in montagna nelle nostre colline si riprendesse la salute. E quindi consigliò alla famiglia di recarsi questa nostra famiglia, che è la famiglia Veggetti, una famiglia storica proprio del paese di Grizana, per soggiornarvi. E da quel momento, quindi da Morandi a 23 anni, comincia appunto questa frequentazione del territorio dell'Apenino e la frequentazione di questa chiete dell'Apenino bolognese, che però è una chiete, mi piace dire, soltanto apparente, è una chiete apparente questa, perché in realtà per lui è proprio, diciamo, l'elemento ispiratore per iniziare a rappresentare in qualche modo proprio l'inquietudine e quella solitudine che si legge in tutte le sue opere, che è la solitudine del vivere, che diciamo è inisita in ciascun essere umano, si può dire. E quindi comincia a frequentare la chiete di queste colline per tutti gli anni della sua vita, sempre d'estate, presso questa famiglia Veggetti, appunto come vi ho detto prima, era una delle famiglie storiche del paese, erano proprietari terrieri e la loro casa, che ospitava Morandi per tanto tempo, è ancora oggi visibile e si trova proprio di fronte a quella dell'artista, insomma, perché quell'artista verso la fine della sua vita si piace costruire una casa proprio in quel territorio, in quella posizione, che poi dopo vedremo. E diciamo, Morandi alloggia quindi in questa casa e si gode un pochettino la chiete durante l'estate di questo territorio, anche se ha un periodo di stacco negli anni 40 durante la guerra mondiale e poi appunto finalmente nel 1960 riesce a far costruire la sua casa, una casa squadrata, che appunto adesso cerco di farvi vedere, che è la foto numero 4. Ecco, è una casa molto semplice, tipica degli anni 60, che oggi è stata inventata a museo ed è stata messa a disposizione dalla sorella, l'ultima sorella Maria Teresa, al momento della morte, fece un testamento che appunto la donava al comune di Drizzana, con l'accordo, con il fatto che il comune la tenesse aperta al pubblico e diventasse quindi un museo, ma la lasciasse esattamente così com'era, quindi con tutti gli arredi, con le soppellette, le addiritture le spodiglie, uguali esattamente a quando c'era la famiglia Morandi. Tant'è che si ha proprio la sensazione, quando si arriva, si entra in questa casa, che da un momento all'altro possa rientrare la famiglia, insomma. Cosa che non succede invece nella casa di Morandi di Via Condazza, perché è diventata un museo e a parte qualche piccola zona, insomma, dei suppelletti, della stanzetta, non è rimasto praticamente nulla. E quindi vale la pena andare a conoscere questa casa, perché in realtà è molto conosciuta l'appartamento di Via Condazza, ma la casa di Drizzana, essendo un po' fuori mano, come territorio, è conosciuta ancora poco. Diciamo che però questa casa è importante, perché è molto semplice, così come semplice era lui, e quindi rappresenta pienamente quella che era la sua personalità. E questa personalità che noi abbiamo voluto mostrare in quest'altra foto, che è appunto la foto numero uno. Ecco, questa adesso la faccio vedere dopo. Vi voglio far vedere prima la foto numero uno, se ci riusciamo, ecco questa qui, è una foto molto famosa che viene realizzata proprio da Lamberto Vittali, lo soggetto che c'erano prima, che ha realizzato il testo sulle sue incisioni, ed era molto amico di Morandi. Lo riprende qui proprio in età già matura, con questa espressione che è stata un'espressione tipica di un'espressione meditativa, insomma, di grande introspezione. E da questa foto ha tratto ispirazione l'artista e il dittore, foto numero 5, che ha fatto la copertina di questo libro, appunto, si chiama Gabriele Donnelli, è un dittore contemporaneo, realizzato con colori acrilici su cartoncino, quindi anche una tecnica un po' particolare, che è ripreso proprio da questa foto. Infatti si vede che rimane questa espressione, anche se l'opera è un po' cubista, rimane un po' questa sua espressione così molto meditativa, insomma. E quindi per finire di rispondere appunto adesso velocemente alla domanda che facevi, perché appunto un ennesimo studio sul paesaggio di Morandi, dopo che in realtà sono state, diciamo così, pubblicate molte opere, soprattutto sulle nature morte, proprio perché, diciamo, dal parere devo fare un piccolo inciso, dire che il mio non è l'unico studio sui paesaggi di Morandi, per l'amor di Dio, ne sono stati fatti importantissimi, tra l'altro anche ad esempio da Marina Pasquali, che è stata, è una professoressa eminente, studiosa del Centro Internazionale Studi di Giorgio Morandi, che si sono occupati da Aini appunto del paesaggio di questo artista, però questo ulteriore studio che ho portato avanti ha proprio la funzione di risaltare ulteriormente, proprio quanto sia fondamentale considerare la pittura di paesaggio di Grizzana alla stessa stregua delle nature morte, degli still life, insomma, non hanno niente di meno, insomma, proprio perché aiutano ad approfondire il senso più intimo della sua pittura. Quindi il paesaggio di Grizzana, non soltanto quello che era figurato da Morandi, ma proprio il paesaggio vero, la natura di questo territorio, osservata ad occhio nudo, è uno specchio, rappresenta proprio uno specchio per l'anima, e non soltanto quello di Morandi, perché in fondo Morandi, a mio parere, insomma, non ha fatto altro che in qualche modo assorbire, rappresentare nei suoi quadri l'essenza della natura, proprio di questi luoghi, e quindi quella sorta di, lasciate passate nel termine, così di fluido magico che emanano questi territori, con queste loro, con queste vedute estive assolate, c'è una luce molto forte, un verde particolare, in queste montagne sono delle distese infinite, insomma, che ti portano veramente a meditare, a diventare introspettivo e a pensare, a spingersi dentro il proprio io e a cercare proprio di conoscersi meglio, perché diciamo che bisogna ammettere che anche se ormai la nostra epoca è un'epoca che ha fatto molti progressi, se abbiamo una tecnologia ormai a livelli incredibili, quella famosa domanda che si pone dalla notte dei tempi su chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, ancora nessuna risolta, insomma, e Morandi si occupava proprio di questo, attraverso la sua opera, e quindi è stato in un certo senso il motivo che mi ha spinto ad interessarmi proprio al tema di paesaggio di Grizzana, è stato proprio questo, insomma, che sto per rispondere un po' alla domanda. E quindi addentrandoci più in specifico, nella narrazione di che cosa si parla all'interno di questo esatto? Allora, il libro, bisogna dire che è stato volutamente diviso distintamente in due parti, in due parti specifiche, proprio per cercare di spiegare un pochino meglio il rapporto che Morandi ebbe con questi territori, con questi luoghi. Diciamo che la prima sezione del libro parla della storia e anche vari aneddoti, alcuni anche particolarmente curiosi, insomma, che riguardano proprio il territorio dell'Apennino Bolognese e di tutto quello che gravita intorno a Grizzana, partendo proprio dalle origini, perché sono territori che hanno un'origine addirittura preistorica, come appunto si rileva dagli scavi archeologici, dei ritrovamenti che sono stati realizzati nel tempo. Quindi si parla di leggende, dei miti, insomma, di queste civiltà che hanno abitato questi luoghi, soprattutto degli etruschi, che hanno lasciato molte tracce del loro vissuto, appunto, e proprio della loro cultura, che ha segnato, come tutti sappiamo, proprio tutto questo contesto territoriale che si estende lungo la valle del Reno. Come sappiamo bene, le antiche civiltà si estendevano proprio lungo i corsi d'acqua, insomma. E Marzabotto in particolare, il cui antico nome era Nisa, fu e rimase un centro importantissimo proprio su cui gravitava la vita di questa civiltà, sui tempi. Dagli scavi, per esempio, della necropoli di Marzabotto, infatti sono emerse, come si sa, le famose tombe sormontate appunto da queste pietre. È la foto numero 6, che se riusciamo a far ridere, tanto la trovo non c'erete sicuramente, sormontate da questa scultura a forma di uovo, che appunto è il simbolo dell'origine della vita. E diciamo che questa sorta di monumenti funerali sono definiti onfalos, ossia pietra ovale, ed erano collegati quasi sicuramente al nome della Dea Pale, che appunto era una divinità etrusca della fertilità, che diede proprio il nome anche alla vetta di Montovolo, che è un monte che si trova proprio sopra a questa zona, molto in alto, molto sopraelevato, che appunto porta questo nome, Montovolo, che dovrebbe avere una derivazione dal latino Mons Palens, ovvero Monte della Dea Pale, che dagli scari che sono stati effettuati risulta avere tracce di vita non solo romana, ma ancora prima addirittura tracce di vita etrusca. Infatti, se si va a Montovolo, il santuario, che ancora tutt'oggi è dedicato alla Deata Vergine della Consolazione, fu da sempre meta di pellegrinaggi, tra l'altro anche molto importanti e molto assidui. Ed è curiosa questa cosa perché il Tempio, come spesso accadeva nell'antichità, la chiesa dedicata alla Deata Vergine, che risale all'epoca dell'Alto Medioevo, fu costruita molto probabilmente su tracce di tempi pagani, prima romani, dopo romani, ma ancora prima di derivazione etrusca, in base agli scari che sono stati effettuati. Quindi, diciamo, bisogna dire anche che questo santuario, che si trova in una posizione molto elevata, ancora oggi è un po' difficile da raggiungere, si raggiunge tranquillamente in alto, però, insomma, si deve transitarlo in queste curve. E quindi, pensando all'epoche antiche, quando la gente, quando le persone si muovevano attraverso questi boschi impervi, insomma, pieni di lupi e di cinghiali, per giungere a questo santuario, fa capire proprio come da sempre l'uomo ha sempre cercato, diciamo, un pochettino, dentro il mistero della natura, la propria identità, tanto da faticare per giungere, andare a costruire il più in alto possibile questi propri santuari, questi propri tempi, luoghi di culto, diciamo così. Quindi, un po' nella prima sezione del libro si parla di queste cose, si racconta un po' la storia, le varie leggende, insomma, che sono dislocate lungo questi territori nel tempo, si parla un pochettino di tutte queste frazioni e luoghi intorno a Grizzana, come tipo, non teacuto, taverno, la stanco, la scuola, sono tutti luoghi che si stanno riscoprendo e che sono stati costruiti con molta probabilità, perlomeno molta parte di questi borghi, dai famosi maestri comacini, che erano una contratternita di mastri muratori specializzati, dalle origini ancora misteriose, diciamo che le prime tracce che risalgono a questi maestri comacini sono di epoca romana, addirittura una lettera di Plinio Cecilio, che è scritta all'imperatore Traiano, parlava, menzionava questi maestri comacini come provenienti da Como, quindi comacini e como. Però non tutti gli studi che sono stati fatti sono d'accordo su questo, adesso ci vuole troppo tempo per spiegare, ma comunque se è tutto scritto nel libro si possono ritrovare tutte le indicazioni e comunque questi maestri comacini viaggiarono un po' per tutto il territorio, dall'Italia settentrionale all'Italia centrale, per tutti questi primi secoli e costruirono appunto questi luoghi in sasso, con questa pietra renaria che era dominata la pietra di Montovolo appunto, perché è una pietra tipica di queste zone, di questi territori. e contrassegnavano questi borghi che loro costruivano con simboli esoterici, quindi non so, la rosa cruciata che è propiziatrice di fertilità e che venivano scolpiti nelle facciate di queste case che andavano ad edificare e se ne possono vedere ancora tante oggi, per esempio nel bordo di Taverola, a 3-4 km da Grizzana, alla Scola, sono state tutte case e borghetti che sono stati egregiamente recuperati, devo dire, e quindi insomma oggi sono visibili al pubblico passeggiando per questi territori. Perché? Perché appunto questi maestri comacini erano dei viaggiatori insomma dal nord al centro Italia e viceversa che costruivano uno stile romanico, quindi dei borghi e delle case che avevano proprio uno stile specifico, uno stile particolare che era il loro stile. Tra l'altro non posso dilungarne ancora molto, perché sennò abbiamo veramente tanto tempo, pare, e anche qui c'è tutto un capitolo dedicato, che proprio dai maestri comacini fossero con molta probabilità proprio gli iniziatori della massoneria. Quindi la massoneria nasce appunto dai maestri muratori e pare che ci siano molti collegamenti con questi, con questi personaggi. Ecco devo fare un'articola, sì allora vi dico che sì perché si parla dell'Inghilterra, di relazione inglese eccetera, ma si stanno facendo degli studi e sembra proprio che questi maestri che, la cui origine è realmente incerta, c'è qualcuno che dice, le termini si chiamano, non perché vengono da como, ma perché lavoravano con un macchinario particolare per alzare la chiesa con machinis, quindi con la macchina, che erano degli strumenti che loro avevano inventato e utilizzavano e quindi si stanno portando avanti una serie di studi per conoscere meglio un pochettino questa congrega di maestri muratori. Diciamo che, allora adesso vi voglio far vedere la foto numero 7 dove appunto noi abbiamo ripreso una parte, una porzione di questa casa, abbiamo voluto far vedere questa, nel libro ci sono proprio dei bordi ben definiti che si possono visionare, però abbiamo voluto riprendere questa, qui è da voi a far vedere a voi perché riprende proprio una parte di questo territorio di Grizana, che sono proprio da Grizana, e sono le tipiche vedute che poi Morandi riprendeva e rappresentava nelle sue opere. E molte di queste case sono costruite con questa pietra dell'aria, che vi dicevo prima, da questi maestri comacini. Ecco, quindi il libro poi narra appunto di varie storie, accadimenti che si sono succeduti nei secoli, quindi non sono ad esempio le lotte tra le famiglie di Castellani che costruivano rocche difensive un po' in giro per tutti questi territori, assoggettando le popolazioni che erano popolazioni che vivevano delle popolazioni contadine, insomma, e quindi riducendoli e trattenendoli sempre in miseria, insomma. Una delle più famigerate, diciamo, di queste famiglie antiche erano i Conti di Panico, il nome è tutto un programma, di cui ancora oggi si vede c'è ancora una frazione che porta verso Grizana, sulla strada provinciale, che ne porta ancora il nome. e poi, diciamo, queste famiglie mano a mano vennero un pochettino, alcune si estinsero diciamo, autonomamente, altre invece sono state poi debellate o dal comune di Bologna, che sappiamo che Bologna fu comunale soprattutto, oppure dal clero, che erano sempre in lotta tra di loro, insomma, nella storia, ma quando era il momento giusto, quando avevano bisogno di unirsi per eliminare certe situazioni complicate per loro, agivano insieme e quindi in questo modo hanno tolto di mezzo molte di queste famiglie che stavano veramente assoggettando e schiarizzando la popolazione che viveva, era una popolazione rurale, in stampo rurale. Ecco, vorrei solamente un attimo aprire una parentesi per sottolineare che molte di queste fotografie, queste che abbiamo visto adesso, anche quelle precedenti, sono state realizzate dal fotografo Fabrizio Malaguti, che è un fotografo e artista di Bologna, che ha collaborato appunto con noi per realizzare questo servizio fotografico che parla di questi territori, abitualmente lavora anche per riviste specializzate appunto nel settore delle fotografie paesistiche e questa volta ha voluto contribuire a aiutarci a realizzare questo lavoro, che secondo me è molto importante perché appunto riporta, cerchiamo di tenere, di portare alla luce un pochino del valore del nostro territorio appenninico che non è proprio tanto conosciuto se non da noi bolognesi, se non da noi che siamo di queste zone. E quindi si va avanti, appunto ancora, adesso la faccio breve, così si parla del periodo quindi del Settecento, Settecento in cui emergono figure importanti che nascono dal territorio burizzanese e che hanno fatto un pochino la storia sempre del nostro territorio, ad esempio anche per parlare, insomma, citarne uno soltanto, l'abate Luigi Mingarelli che fu anche lettore al prestigioso, la prestigiosa biblioteca archicinnasio di Bologna e che redasse, questo nel Settecento, anche un'opera importante proprio per la storia dell'epoca sull'assetto territoriale italiano di quei tempi oppure su un suo nipote Giovanni Maria che fu segretario del ministro di Napoleone e il conte Antonio Aldini e che fu proprio anche tra coloro che istituirono il tricolore nel 1797 della Repubblica Cispadana e quindi che poi sappiamo che un secolo dopo furono tutti i passaggi che portarono appunto all'unità d'Italia ecco, sono tutti fatti personaggi ben poco conosciuti ma che in realtà gravitarono proprio in questo territorio dell'Atenino e che invece hanno contribuito veramente alla storia, alla nostra storia, insomma, dell'Italia e quindi si arriva, come dicevo prima, fino all'India dell'Ottocento, all'epoca dell'industrializzazione che appunto porta molto avanti con le filande, le ferriere, insomma, porta un certo sviluppo nell'economia dell'epoca anche se in realtà per la popolazione rurale, per la popolazione di questi territori la vita continua a rimanere arretrata e qui si spiegano un pochettino questi passaggi che si verificano, insomma, in tutto questo periodo diciamo che nonostante tutto la montagna ancora in queste epoche di una certa arretratezza continuava però a sfornare personaggi importanti come ad esempio l'eclettico conte Cesare Mattei che progettò la sua originalissima dimora che era la famosa adesso oggi è divenuta famosa Rocchetta di Riola di Vergato che oggi tutti conoscono perché è la foto numerosa adesso ve la faccio vedere, la riconoscerete sicuramente diciamo è un luogo unico nel suo genere oggi è riportata alla luce da questa grande opera di restauro che è stata fatta negli ultimi anni e che lui la edificò proprio ideandola secondo uno stile tutto personale che aveva, che univa tanti stili di costruzione che appunto aveva conosciuto nei suoi viaggi in giro per il mondo insomma e qui sperimentava anche i primi rudimenti di metodi curativi attraverso l'elettronopatia e quindi hanno gravitato in questo territorio in questo castello in particolare molti personaggi si parla di Dostoieschi si parla di alcuni poeti francesi di fama che frequentavano la sua casa e quindi si arriva così al secolo scorso quindi al periodo delle due guerre mondiali agli episodi storici che sono avvenuti lungo proprio questo asse territoriale di Grizzana in modo particolare di Grizzana perché qui passò la linea del fronte tedesco e quindi potete immaginare gli ecidi l'ecidio di Montessore, di Marzabotto sono due stragi che sono avvenute proprio in questo territorio in queste zone e quindi c'è una memoria storica infinita in questi territori e qui si parla si parla di episodi particolari che sono avvenuti in questo periodo del Novecento è stato un periodo abbastanza tragico abbastanza difficile in queste zone e diciamo che poi la prima parte si conclude con il contributo artistico parlando del contributo artistico e culturale di grande importanza che Morandi lasciò a queste zone e se ne spiegano un pochino le ragioni a suddividere queste due parti del libro c'è un nutrito apparato iconografico perché sono più di una settantina scusate di fotografie alcune come abbiamo detto realizzate da Fabrizio Maraguti altre che ci sono state concesse con permessi da parte di importanti fondazioni come la fondazione Carisbo la fondazione Congdon che ci hanno appunto dato la possibilità di pubblicare alcuni quadri alcune opere insomma morandiane e c'è anche una foto in particolare che è stata difficilissima di reperire perché è una foto rarissima non si trova nessuna parola che è questa foto qui che rappresenta Morandi il terzo da sinistra quello più alto di tutti perché Morandi era un amore da molto alto in un periodo giovanile e la sua vita ha la cadena di Belle Arti insieme ad altri quattro artisti importanti il Bologna dell'epoca il primo a sinistra Luigi Severi poi abbiamo Chiappelli Morandi e poi questo piccolino qui un po' più piccolino qui a Berster che è Gino Marzocchi e poi l'ultimo di fianco è Augusto Maiani che aveva il famoso Nasica e fu l'industratore importante di Bologna proprio l'anno scorso infatti l'artiginale gli ha dedicato una mostra una bellissima mostra ecco e con questo chiudiamo la prima parte la seconda parte del libro invece parla proprio della vita di Morandi nel territorio di Grizana a partire proprio dalla giovinezza fino alle ultime fasi della sua esistenza e qui appunto entrano in gioco personaggi e aneddoti anche curiosi insomma che lo riguardano le critiche sviscerate che gli sono state rivolte insomma negli anni anche da personaggi molto famosi della cultura insomma della politica anche italiana per esempio si parla delle sue scaramucce con un altro grande della pittura Osvaldo Licini addirittura si parla del suo arresto per brevissimo tempo per una settimana presso il carcere di San Giovanni Monte a Bologna questo anche a sfatare un pochettino questa idea che ci si era fatti appunto nei tempi passati sulla sua figura una figura molto schiva che non si interessava di nulla di tutto quello che appunto gli accadeva intorno in realtà negli anni periodi giovanile eravamo negli anni 40 aveva aderito anche a questo partito il partito d'azione era un partito diciamo che non era né di sinistra non era né comunista né fascista e quando invece in quel periodo interversava con c'era il regime chiaramente quindi erano in lotta alle due fazioni diciamo che questo partito era un partito che si distaccava perché era un partito moderato erano i primi preliminari diciamo così di quella che sarà poi in futuro la democrazia cristiana e quindi in viso un po' da tutte e due le parti perché non si capiva bene come la pensassero e quindi lui fu a un certo punto accusato di cospirazione contro le regine per cui viene imprigionato e proprio grazie al pittore Mino Maccari Mino Maccari che dirigeva una rivista Il Selvaggio si chiamava Il Selvaggio una rivista famosa degli anni 30 e degli anni 40 e perché aveva proprio una connotazione artistica particolare e per questa rivista la illustravano artisti poi diventavano famosi uno intanto per ci farne uno mortone rosale e diciamo proprio grazie a Maccari riuscì a essere scarcerato in qualche modo insomma e insieme a non solo a Maccari anche altri che gli dedero una mano diciamo così e tant'è che a proposta di questo episodio perché non essendo uno che diciamo Orani non era uno che si esprimeva che parlava con tutti di questi suoi degli rendimenti della sua vita c'è un episodio che è abbastanza curioso tanti anni dopo uno dei suoi illustri allievi uno dei suoi più illustri allievi il pittore volonese Ilario Rossi in un suo libro che è scritto nel 1983 descrivendo proprio il carattere un po' schivo appunto del suo maestro si domanda nel libro ma chissà perché parlava bene poi solo di Maccari quindi alla luce di quelli che poi sono state le notizie si sono conosciute appunto gli aveva dato appunto una mano ad uscire dal carcere insomma e quindi vi è tutto uno spaccato della personalità di Morandi che è molto più ampio e interessante rispetto all'idea che molti si sono fatti nei tempi passati appunto che lui svolgesse una vita triste e chiusa tra le quattro mura insomma di Via Fondazza dove lui abitava ulteriori testimonianze anche sul discorso della misoginia di cui qualcuno insomma lo accusò viene anche da alcune artiste donne una tra queste Janet Abramovic che fu sua lieva proprio all'Accademia quando si trovò a Bologna ed è scrive in un suo libro proprio una personalità invece gioviale affatto ombrosa come veniva descritto Morandi quindi probabilmente anche questo diciamo così a farsi costruirsi un'idea un pochettino più ampia di quella che poteva essere la sua personalità ecco e ovviamente in tutto questo contesto narrativo si cerca anche di spiegare e di descrivere un pochettino il significato dei quadri paesistici che l'artista realizzò a Grizana proprio come espressione della sua personalità anche adesso qui non abbiamo il tempo di stare a descrivere ecco questo quindi ecco parlando della personalità di Giorgio Morandi secondo la tua opinione chi era Giorgio Morandi cioè cosa ti ha appassionato a questo artista così celebre in tutto il mondo eh sì infatti mi sono proprio appassionata a Morandi per questi motivi proprio per questa sua maniera di dipingere che mi aveva incuriosito proprio di dipingere le cose semplici apparentemente poco attrattive e che però affascina insomma in qualche modo come ho detto a tu proprio le motivazioni che ho detto prima perché ti spinge proprio a guardarti dentro insomma a porti delle domande e perché ti viene spontaneo chiederti perché abbia ripetuto così ossessivamente tutti questi oggetti per tanto tempo e anche questi luoghi per tanti anni insomma e andando a Grizana frequentando il territorio di Grizana ho potuto comprenderne le motivazioni insomma o meglio ho potuto comprendere che lo studio della natura in Morandi in realtà era un pretesto in fondo un pretesto per parlare proprio della natura umana quindi del nostro essere di quella che è un po' la nostra malinconica ricerca di un qualche cosa che noi non riusciamo non sappiamo visualizzare non riusciamo a spiegare ma che in realtà noi sentiamo essere presente perché in qualche modo ne sentiamo la nostalgia quindi la vita umana diciamo sola non si completa questo lo possiamo dire tutti insomma perché come abbiamo detto prima ci manca quel quid quel punto di partenza di cui noi non abbiamo conoscenza da dove siamo in realtà partiti e Morandi diciamo affascina proprio per questo perché prima di tutto come uomo e quindi di conseguenza come artista si pone proprio queste domande attraverso l'arte attraverso la sua meditazione e quindi e quindi la prossima